Il ricorso al TAR di Stani Verde non va a buon fine, Domenico Savio, si continua con l'amministrazione del Deo, ci contavate su questo ricorso? Per noi, ci scusiamo per la modestia, per il 90% questo ricorso era prevedibile che si perdesse. Noi non abbiamo fatto ricorso al TAR, qualcuno ci ha pure accusato irresponsabilmente di scarso coraggio, però era prevedibile questo risultato. Non abbiamo fatto opposizione anche per due motivi. Uno è che la venuta del commissario prefettizio non è mai una cosa buona. Se fosse venuto il commissario prefettizio, come prima cosa avremmo potuto avere l'aumento delle tasse, ad esempio, richiesto dai revisori dei conti più volte e un'accelerazione avrebbero potuto, tra l'altro, avere anche gli abbattimenti delle case di necessità costruite dalle famiglie lavoratrici per abitarci. Anche su altri temi sociali sicuramente le cose non sarebbero andate meglio di come male vanno oggi. Ti chiedo anche il fatto dei revisori dei conti, visto che adesso sono stati sostituiti. Sì, noi non sappiamo come si muoveranno questi nuovi revisori dei conti. Ci auguriamo che continuino il lavoro dei precedenti, che hanno avuto molta attenzione sulla gestione corretta del bilancio comunale. Ci auguriamo che si continui su quella linea. Comunque, volevo dire, noi comunisti non abbiamo una posizione politica di odio, di avversione personale verso i nostri avversari. Dunque, non avrebbe potuto esserci neppure questo elemento nella nostra partecipazione al ricorso al TAR. Perché? Perché la nostra battaglia politica da sempre muove dalla difesa degli interessi della collettività. Gli interessi della collettività per noi vengono prima di noi stessi e di ogni altra cosa.